La realtà ci piglia sempre in contropiede, ci ha preso in contropiede la pandemia, non sapevamo cosa fosse, quali problemi creasse, chi fossero le vittime, chi fossero i carnefici, è arrivata la guerra, non sappiamo chi è il colpevole, chi è la vittima, cosa avverrà, come si costruisce la pace, cioè la realtà è così mutevole che ci piglia sempre in contropiede. Questa scuola vuole rispondere immediatamente a tutto questo, è un pronto soccorso che appena avviene un evento lo decodifica e ci consente di gestirlo. È una scuola che nasce fortunatissima, per me è un grande privilegio ma anche una grande fortuna perché nasce non isolata, nasce in un contesto, in un network come si dice oggi, in una rite che comprende una casa editrice, una fondazione no profit, comprende una televisione, comprende un sito, un giornale, naturalmente un quotidiano e un mensile, quindi un insieme estremamente variegato che si gioverà della scuola e che la scuola riuscirà però anche ad aiutare fornendo poi materiali, idee e soprattutto persone formate.